Buongiorno e bentornati nel canale di Officine Avarisco. Oggi parleremo di protezione cattodica permanente. A differenza di precedenti video dove abbiamo visto la protezione cattodica con l'anodo al magnesio sacrificale, oggi parleremo della protezione cattodica permanente cioè di un anodo formato da un potenziostato e da un elettrodo al titanio che permanentemente rimangono attivi senza consumarsi. Abbiamo raggiunto con questo due obiettivi. Il primo di non dover o svuotare il nostro serbatoio per andare a verificare lo stato di usura dell'anodo al magnesio oppure di dover controllare periodicamente che l'anodo al magnesio sia attivo attraverso la misurazione della corrente. Con questo tipo di anodo appunto composto da un potenziostato e da un elettrodo al titanio abbiamo una protezione cattodica con una corrente che non è più autogenerata per consumo come nel primo caso ma alimentata proprio da rete. Cosa significa? Significa che attraverso la rete normale dell'alimentazione della corrente noi attiviamo questo potenziostato che va a leggere esattamente la corrente che all'interno del serbatoio c'è tra la superficie e la necessità di corrente di protezione. Questo potenziostato viene diciamo semplicemente viene acceso e spento continuamente in modo che questa taratura della corrente che ci serve per la protezione sia sia omogenea e sia unicamente quella che ci serve al nostro scopo. Dovremmo quindi verificare che non ci sia mai l'interruzione della corrente perché però questo possa avvenire. Inoltre quando parliamo della sedimentazione e della migrazione dei sali minerali avviene nella stessa maniera che avviene con l'anodo per cui noi ci troveremo nel serbatoio delle tracce o bianche o giallognone che non sono altro che il precipitato dei nostri sali minerali che vanno a proteggere il salbatoio con la differenza che la corrente questa volta corrente in pressa continua è circa 2,5 3 2 dai 2 2,5 3 volt per cui superiore all'anodo e ci serve per quel tipo di acque particolarmente addolcite dove la quantità di sali contenuta è inferiore spesso alla norma minima richiesta. l'attenzione per questo tipo di apparecchio naturalmente è quello di non lasciarlo inutilizzato per tanto tempo più di due tre mesi perché altrimenti all'interno potrebbe generare una dissociazione dell'idrogeno nell'acqua con problemi conseguenti. Ovviamente anche questo funziona solo se il salbatoio è completamente riempito ha un costo naturalmente superiore a quello che possono essere inizialmente gli anodi al magnesio però ci ripagherà nel tempo per quanto riguarda la sua funzionale copertura copertura contro la corrosione e potremo per così dire dimenticarcelo senza bisogno di manutenzione. Per quanto riguarda l'anodo a corrente impressa continua esistono vari modelli di potenziometro e varie misure di elettrodi al titanio naturalmente questi servono per essere adattati alle più disparate capacità di serbatoio. Bene diremo che per oggi è tutto vi ringrazio se il video vi è piaciuto mettete mi piace azionate la campanella per rimanere aggiornati sui prossimi video seguiteci sul nostro sito e scriveteci e inviateci vostre domande o richieste particolari. Ciao alla prossima